Da Miramason Video arriva ai Teletubbies, un fantastico mondo di Teletubbies sta per arrivare in videocassette originale. Un famoso collezionista è da vedere e vedere insieme a Tinky Winky, Dipsy e Lala e Poe vivranno una fantastica avventura. E Buon Natale dai Teletubbies dove i fantastici regali e il contenere colazione albero da non vedere il famoso speciale a un'occasione giusto. E i Teletubbies e la neve dove i Teletubbies scofferta la neve diventa un fantastico gioco ieri, famoso e spettacolare, famoso e speciale. Un'occasione da vedere e rivedere che non fa venire occasione. Non perdete con i Teletubbies il fantastico mondo di Teletubbies di Teletubbies, una nostra collezione in videocassetta a soli 19.900 lire, in esclusiva da Miramats Home Video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.